Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati su InfoRiUniversa e benvenuti a questa puntata speciale in cui voglio condividere con voi il primo episodio del podcast in trecci. Il podcast è su Patreon e uscirà lì con quattro puntate in anticipo, dopodiché uscirà anche qui e se vi ricordate doveva iniziare verso giugno. Ma poi mentre iniziavo a lavorare al podcast è subentrata una cosa a sorpresa gigantesca. Insieme ad un altro divulgatore scientifico che si occupa di astronomia, chiamato Luca Perry, che sicuramente nessuno conosce, non conosce nessuno, a volte riempie planetari ma a parte questo, ha scritto una decina di libri ma a parte questo, c'è in tv ma ok ho finito le cose, forse qualcuno di voi la conosce, abbiamo una rivalità molto amichevole e comunque abbiamo fatto un podcast insieme in un intero podcast di 16 puntate, un'ora l'una, gigantesco, per tutta l'estate abbiamo lavorato a questo mega progetto che uscirà presto, vi saprò dare notizie dove trovarlo e tutto, uscirà probabilmente in autunno con tutte le 16 puntate, tutte quante insieme. Ora, finito questo gigantesco progetto in cui abbiamo affrontato tutta la storia dell'esplorazione spaziale del 900, ognuno è tornato poi dopo alle sue cose. Luca Perry è tornato sul suo pianeta e io sono ritornato a lavorare ai podcast. Quindi, dato che ora usciranno finalmente tutti regolarmente gli intrecci, poi dopo vedrete perché si chiamano così, voglio condividere con voi intanto la prima puntata che riguarda i sottomarini. Le regole di questo podcast sono molto semplici, voglio raccontare storia e storie della scienza e come si intrecciano le storie di vari campi dalla scienza e la cultura, la nostra storia come umani, e prendere un filo conduttore e poi continuare da lì. Quindi, in questo caso, nel primo episodio, il filo conduttore sono i sottomarini. E vediamo quanta storia riusciamo a ricavare intorno. Non è tutta la storia dei sottomarini, sono alcuni episodi importanti, ma spero sia stato molto divertente lo stesso. Fatemi sapere, un abbraccio, ci vediamo presto. Continuate ad essere meravigliosi. Ho questo ricordo di quando ero piccolo, durante un inverno molto nevoso, di me appiccicato alla finestra, che morivo dalla voglia di uscire a giocare fuori con la neve, e mio nonno che continuava a cercarmi di dissuadere e portare via dalla finestra, uno perché faceva incredibilmente freddo, e due perché mi ero completamente rovinato i guanti dalla sera prima e erano ancora da asciugare. Ero terribile da gestire quando ero piccolo, perché continuavo a rimbalzare da tutte le parti, a muovermi, e volevo a tutti i costi uscire. Ma nella zona dove vivevo, in Abacau, vicino alle montagne tra la Transilvania e Moldova, continuava a fare incredibilmente freddo, e quindi cercavano di dissuadermi dall'uscire con quelle temperature, e per cercare di tenermi buono, mio nonno mi prese da parte e mi disse, senti, ti racconto una storia. E a quel punto rimasi colpito, perché di solito non mi diceva mai queste cose, di solito quello che mi diceva è, oh mio Dio, morirai, non lo fare, stai buono, stai buono, allontanati da qualsiasi oggetto puntiglioso, mi stavo avvicinando troppo. E mi prese da parte e quindi mi disse, Allora, ecco la storia. E mi raccontò una storia sua, personale, di quando era giovane, delle cose che aveva fatto. E non mi ricordo niente. Cioè, niente. Mi ricordo però alcune piccole cose, perché mi ricordo di avervi chiesto cosa era successo dopo alcuni eventi, oppure che fine avevano fatto alcuni dei, delle persone, dei personaggi, e ovviamente la sua risposta è io, che ne so. E questa cosa mi rimase molto, perché mi ricordo che subito dopo, quando finalmente mi lasciarono uscire, anche perché avevo rotto le scatole per tutto il giorno, avevo usato poi la sua storia per costruire la mia e riempire tutti quei voti con le mie idee, quello che mi appassionava. E iniziai a giocare nella neve con sassi, rami, altre cose per costruire tutte le mie cose, castelli, draghi e altre cose improbabili che immaginavo all'epoca. Non che ora vada molto meglio, continuare la mia immaginazione a spingermi verso le cose più improbabili. Però, la cosa che mi affascinò moltissimo è che mi dite proprio questa sensazione di pancia che le storie non vivono per conto loro, ma sono piene di altre storie che non vengono quasi mai raccontate. È un po' come se le storie che noi sentiamo, anche nella storia della scienza, che è quello di cui tratterà questo podcast, fossero solo la superficie, fossero un po' tipo la patina, quello che vediamo all'esterno, mentre sotto, sotto la punta dell'iceberg, c'è un oceano vastissimo di storie. E uso questa metafora perché riguarda il tema di oggi, del primo podcast, ma ho fatto tutta questa storia senza neanche presentarmi, quindi per chi di voi non mi conosce, sta sentendo questo podcast per la prima volta, io mi chiamo Adrian, Adrian Fartade, sembravo molto a Bond, James Bond, e mi occupo di storia della scienza, storia dell'esplosione spaziale in particolare. Ma dato che sul canale YouTube parlo tantissimo della storia delle missioni spaziali, volevo fare questo podcast un po' per sfogarmi io, per raccontarvi anche altre cose, e un po' perché è una specie di lettera al me da bambino per cercare di raccontarmi delle storie che nel frattempo ho trovato che sono sicuro che al me da bambino affascinerebbero moltissimo. E credo un po' a tutti i bambini dentro di noi, là fuori. O a bambini anche letteralmente, anche se non so se avranno la pazienza di ascoltarmi e parlare per non so quante decine di minuti di sottomanini, che sarà il primo tema di questo primo podcast. Ora, in realtà, questo podcast sarà un work in progress, quindi questa prima puntata è appunto una prova, vediamo come viene, poi dopo di sicuro diventerò più bravo man mano che vado avanti. Questo è un inizio. E anche se durante la mia carriera ho iniziato un sacco di progetti, da spettacoli di teatro al canale YouTube, nuovi format su YouTube, a trasmissioni TV o libri, in ogni caso, l'inizio è sempre una delle cose che mi emoziona di più, perché alla fine, per quante idee tu possa avere del contenuto, l'inizio è sempre strano. Cioè, devi dare una motivazione, un qualche ragione per iniziare a parlare. E mi piace molto perché quella singola emozione pura del perché ti sto raccontando questa cosa, credo che più è autentica, più dopo permette di fare una connessione con voi che siete a casa, che vi sentite poi più coinvolti. Quindi non voglio fare questa cosa che vive nel vuoto, così, per conto mio, ma mi piace che siete coinvolti e in qualche modo sapete perché lo faccio io e potete raccontarmi le vostre di storie, magari come voi avete riempito cosa vi ha affascinato delle storie che ho raccontato e così almeno può diventare una cosa nostra. Ultima cosa, poi giuro che inizio a parlarne anche perché ho passato quattro minuti solo a raccontare di me. Questo podcast si chiama Intrecci, perché l'idea è quella di raccontare come si intrecciano le varie storie con la scienza. Nella storia della scienza la scienza non vive per conto suo in un vuoto, ma vive intrecciata poi con la cultura, l'arte, le persone che la vivono e la fanno e ne subiscono anche le conseguenze, le trasformazioni. E quindi cercherò ogni volta di prendere un filo conduttore con un tema e cercare di trovare tutte le varie storie sotto tutto questo tema che mi hanno affascinato e colpito. Ora, la prima puntata è dedicata a Sottomarini, però non riuscirò a parlare ovviamente di tutti quanti i Sottomarini, di tutte le storie a riguardo, per cui sarà tipo un assaggio. Di sicuro qualcuno di voi là fuori che magari è appassionato o che ha sentito storie riguardo ai Sottomarini dirà alla fine ah cavolo ma non hai parlato della mia storia preferita. E vi ho nel cuore, davvero, anche perché fare una selezione tra tutte le storie è stato incredibilmente difficile, però prometto che poi dopo ci saranno, come lo dico per tutte le puntate future, ci sarà possibilità di tornare su questo e magari rielaborare e fare che nessuna puntata due sui Sottomarini una puntata tre eccetera eccetera. Non riuscirò comunque a essere esaustivo su niente in una sola puntata, quindi cercherò però di esserlo per la storia che racconto in sé. Ora, finalmente siamo arrivati dopo sei minuti interi di me che chiacchierò alla prima puntata e alla Ciccia e con Ciccia iniziamo nel 1624. Giacomo I, re d'Inghilterra, viene convinto da un pazzo che tanto pazzo non è un ingegnere olandese di nome Cornelius Drebbel di entrare dentro questo nuovo trappolo, un nuovo dispositivo strano che aveva inventato fatto in delle specie di parti in legno e parti in metallo coperte tutta quanta da pelle e da pece che aveva l'obiettivo di navigare sotto l'acqua. Immaginatevi però la gente del posto e di Londra che guardava verso il Tamigi vedeva il re in persona entrare dentro questo uovo strano coperto di pece e legno per scendere poi misteriosamente sotto le acque. Anche se il concetto di un sottomarino non era nuovo e le persone ci avevano fantasticato sopra da moltissimi anni, nessuno aveva costruito qualcosa di così efficiente a muoversi sotto l'acqua come l'invenzione nuova di Cornelius di Cornelius Drebel viene chiamato Drebel la macchina di Drebel con il tempo per via della sua fama e ne costruì tre modelli tra il 1620 e il 1624 il più grande quello in cui navigò anche Giacomo I era in grado di portare fino a 16 passeggeri ovviamente poi non c'erano motori per cui per riuscire a muovere questo trepolo usarono remi quindi c'erano persone dentro che remavano e muovevano più o meno questo sottomarino in una direzione in particolare anche se devo dire che non ci sono molti resoconti storici dell'efficacia di questo di questo sottomarino per cui quello che sappiamo è che esistiva abbiamo un'idea vaga di come era fatto e delle voci che ci giungono sulla sua efficacia e sul fatto che aveva viaggiato più volte attraverso il Tamigi o tra Westminster e Greenwich però sulla sua efficacia siamo un po' incerti anche perché in realtà vederlo così da quelle poche cose che ci sopravvivono sembra che non avesse molta capacità di muoversi era più una curiosità perché per esempio veniva tranquillamente portato via dalle correnti per cui se lo posizionavi nell'acqua nella direzione giusta e la corrente li accompagnavano allora andava bene ma non era granché per uso in battaglia o qualcosa del genere anche se devo dire che nessuno si immaginò di usarlo in battaglia all'epoca e questa idea di curiosità strana da far vedere ai bambini o ai re come Giacomo I rimase per molto tempo infatti il nostro prossimo passaggio nella storia dei sottomarini arriva nel 1775 di nuovo non perché nel frattempo non è successo niente ma sto cercando di sintetizzare David Bushnell nei Stati Uniti è un altro inventore americano ingegnere molto preso bene dai sottomarini che crea una cosa chiamata tartaruga ed è il primo sottomarino che ha un propulsore un motore ad ellica questa fu un'invenzione molto importante perché la vediamo poi in tutti i sottomarini successivi e beh molto molto successo e fu usato anche in guerra durante la guerra per la rivoluzione americana contro l'impero britannico la propose come una nave da guerra sottomarina per cercare di piazzare degli esplosivi sulle navi attraccate nei porti ed era tutto molto bello sulla carta ma poi quando hanno iniziato a fare delle prove non riuscivano a far allontanare la tartaruga come veniva chiamato prima dell'esplosione diversi tentativi furono fatti tra l'altro George Washington stesso finanziò l'impresa molto felice di questa nuova tecnologia e convinto che sarebbe stato il futuro però non stati i sforzi della tartaruga non ne venne fuori niente di di concreto alla fine anche gli europei d'accanto loro iniziarono a lavorare su questo un po' tutti i paesi sia l'Inghilterra piccoli passi la Spagna la Germania la Francia ma uno dei sforzi più importanti e più famosi anche arrivò da un altro inventore americano ma in Francia questa volta a Rouen ed è l'americano Robert Fulton ora lui si trovava a Parigi durante la fine del settecento e sentì di queste voci di nuove invenzioni ed era un po' nell'aria no? perché in questo momento si vive l'età dopo la fine della monarchia e c'è molto entusiasmo riguardo a cosa sarà il futuro e cosa succederà nel futuro e tutto questo entusiasmo poi si viene catalizzato anche dalle guerre napoleoniche da Napoleone che sembra lo spirito futuro dell'epoca a venire eccetera è tutto bello tutto sarà trasformato e in questa nuova Europa nascente in questa Francia strana Fulton trova abbastanza pazzi da seguirlo nel suo progetto per costruire un sottomarino e parte nel porto di Rouen e inizia a lavorare al suo progetto chiamato Nautilus per questo se vi ricordate Nautilus è per lui lui fu il primo a creare questo progetto poi dopo fu ripreso da Jules Verne e tuttora in realtà se andate a Rouen dove fu costruito in Francia al porto trovate una targa dedicata ai sforzi di Robert Fulton e al sottomarino Nautilus e spesso considerato tra l'altro il primo sottomarino pratico cioè che era capace di manovrare davvero somigliava a un sottomarino non era soltanto una cosa in legno che si faceva portare via sotto l'acqua dalle correnti ma in questo caso era anche abbastanza grosso era in ferro era coperto di rame era completamente sigillato all'interno aveva delle pine per potersi orientare e quindi era molto più facile da navigare e aveva un motore ad elica ed era grande 6,48 metri per 1,93 metri quindi immaginatevi una roba grande circa 6,5 metri per 2 aveva anche un duomo per l'osservazione sopra questa è un'innovazione abbastanza importante perché non aveva ancora periscopio non esisteva il concetto nei sottomarini però per riuscire a fare delle osservazioni di quello che vedi sopra ma anche dentro sotto l'acqua c'era questo duomo protettivo molto ben sigillato che permetteva di uscire e mettere il naso fuori era anche una delle attrazioni principali dell'essere dentro il sottomarino non solo ma il duomo permetteva di avere abbastanza luce per poter leggere o vedere le cose intorno anche sott'acqua almeno durante il giorno questo era importante perché con l'ossigeno l'aria limitata dentro il sottomarino tutte le volte che tu accendi una candela quella è aria ossigeno utilizzato che non respiri e gas che si accumulano dentro il sottomarino per riuscire a risolvere quest'altro problema lui aggiunse un tubo lungo coperto completamente da pelle e si è girato che faceva uscire fino a superficie e attraverso il tubo si cambiava un po' l'aria non ha un percentuale molto veloce però comunque bastava per evitare problemi specialmente con i gas che si potevano accumulare come l'anidride carbonica anche se trovo molto affascinante che questi problemi lui cercava di trovare una soluzione nel 1800 prima di sapere dell'esistenza dell'anidride carbonica per cui sapevano che se non c'era aria ti girava la testa ma non avevano idea di ossigeno o altre cose di cui parliamo oggi ecco un'altra cosa che mi affascina moltissimo che è un concept abbastanza unico in realtà nel sottomarino e fu proposto però solo in questo è una vela pieghevole cioè il sottomarino quando arrivava in superficie poteva aprire questa vela stile vela solare fatta sui modelli delle velle cinesi delle navi orientali in generale che permetteva al sottomarino di viaggiare con il vento i sottomarini moderni non hanno niente del genere però hanno motori che funzionano a combustione quindi possono essere spinti tranquillamente per molto più tempo oppure motori nucleari nel porto di Rouen fu creato questo primo progetto fu portato avanti e molti in realtà lo incontrarono con scetticismo l'idea sua di Fulton era quella di usare delle cose che chiamava carcasse che erano delle mine agganciate poi a sottomarino nella parte esterna che potevano essere appiccicate alle navi e poi dopo rimaneva un sistema di accensione della mina a distanza e il sottomarino si allontanava e poi dopo quella che veniva chiamata carcassa poteva far esplodere una nave e portarla a fondo in realtà alcuni ingegneri e molti scienziati erano entusiasti di questo nuovo concept di sottomarino però la marina era molto scettica perché lo vedeva come o qualcosa che portava soltanto i marinai a morire sotto le acque perché era troppo pericoloso oppure un giocattolo che non poteva essere preso sul serio perché le vere battaglie marine si sarebbero combattute ovviamente con le navi e quindi erano le navi il futuro e se qualcuno osava dire no no ma forse i sottomarini sarebbero stati il futuro e che non riguardava appunto la marina lo prendevano un po' per eretico questo scetticismo si è visto molto perché Fulton non aveva soldi e continuava a cercare poi finanziamenti e nessuno voleva finanziare la sua opera perché appunto lo consideravano un pazzo che continuava a giocare con progetti costosi comunque ebbe un amico molto importante che è Simone Laplace Pierre-Simon Laplace che è uno dei più famosi astronomi e matematici francesi e a Laplace lui gli chiese se poteva incontrare Napoleone ora Laplace era considerato tipo come noi pensiamo ad Einstein ora era così che era pensato lui all'epoca in Francia e quindi quando ovviamente Laplace fece la voce grossa e disse che Napoleone doveva andare a vedere questo nuovo dispositivo in realtà nessuno rimase particolarmente impressionato però dissero a Napoleone se davvero voleva andare a vedere questo tizio anche Napoleone rifiutò perché tutti quanti sembravano abbastanza scettici anche perché si faceva circondare da persone di marina militare e quindi non era molto convinto di questa cosa comunque nel 1801 nonostante i scarsi fondi mette da parte abbastanza soldi questo Robert Fulton per usare il Nautilus per testarlo contro una nave era una nave che non veniva più utilizzata la lasciano da parte e lui ha il permesso di provare ad abbatterla con la sua invenzione il suo Nautilus va a due nodi che non sono tipo mi piace molto che quando ero piccolo non avevo idea di quali potevano essere le velocità in nodi e tutti i romanzi quando leggevo le cose storie di pirati o esploratori anche Jack London raccontavano le cose parlando di velocità in nodi e io guardavo mia nonna dall'altra parte della stanza cercare di cercare faceva le cose con la lana e continuavo a pensare quindi è la velocità a cui una nonna può fare due nodi bene ho capito tutto in realtà due nodi permettevano Nautilus di percorrere circa 400 metri in 7 minuti con 3 persone a bordo più il Duomo di vetro quindi abbastanza peso per un sottomarino di questo tipo così primordiale comunque si avvicinò alla nave mise la carcassa poi si allontanò in tempo e il sottomarino esplose non il sottomarino scusate che dico povero Fulton no 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 la nave la nave esplose fu un successo tutti al banco esaltarono lodarono Fulton il suo sforzo e Nautilus diventò una specie di icona e tutti erano molto contenti quindi questo nuovo slancio da parte degli ingegneri e delle persone di Rouen attirò l'attenzione finalmente di Napoleone e sentendo continuamente parlare di Fulton e di come è riuscito ad abbattere addirittura una nave con Nautilus si decise di arrivare finalmente a settembre a vederlo ora questa cosa era successa in primavera nel frattempo durante altri test lui aveva fatto altri due sottomarini questa volta in versioni migliori aveva curato alcuni aspetti ma durante i vari test che aveva fatto si erano sciopati parecchio hanno dovuto smontarli per cercare di rimettere a posto diversi pezzi importanti non riusciva a trovarli ha dovuto buttarli quando Napoleone arriva trova soltanto pezzi di sottomarino e Fulton cerca di spiegargli che in realtà il sottomarino esiste e come soltanto che l'ha trovato nel momento in cui è tutto smontato però Napoleone fondamentalmente lo prende in giro dicendo che è un truffatore un ciarlatano e che questa cosa non esiste e che non c'è nessun Nautilus e se ne va quindi questa è la fine del contributo di Napoleone alla nostra storia non decise di non finanziare le cose e lascia perdere il progetto ma dall'altra parte del manico c'è c'è qualcuno che è molto più convinto dell'utilità del Nautilus o meglio mettiamola così è molto più convinto che il Nautilus esiste e sarebbe meglio se non fosse nelle mani dei francesi il Regno Unito infatti arriva da Fultoni e dice senti ti diamo 800 stelline se vieni a lavorare per noi lui prende i soldi se ne va in Inghilterra anche perché in Francia ormai era scocciato dal fatto che nessuno lo perdeva sul serio e inizia a lavorare al progetto per il Regno Unito di un Nautilus 2 più avanzato più resistente migliore gli inglesi continuano un pochino a finanziare il suo progetto e poi dopo dopo la battaglia di Trafalgar quando sconfingono Napoleone abbandonano l'utilità insomma a tutti i progetti riguardo al Nautilus 2 in realtà non lo abbandonano direttamente gli dicono si si tu continua a lavorare ma non erano minimamente interessati quindi lui rimane un po' in questo limbo con niente da portare avanti non aveva non c'era nessuno interessato e non aveva fondi per portare il suo progetto a termine e quindi nel 1806 lascia l'ambasciata di Londra tutto scocciato e se ne va nei Stati Uniti tutto il materiale che lui aveva lasciato riguardo al Nautilus 2 tra l'altro viene ritrovato solo nel 1920 quando viene ristampato e tirato fuori dalla luce del sole finalmente il Nautilus però ebbe un grosso contributo diede un grosso contributo diciamo nell'immaginario di vari ingegneri che erano venuti a contatto sia con Fulton che racconti delle sue imprese perché poi dopo molte delle invenzioni che lui aveva anticipato le vediamo riprese da altri concept da altri sottomarini facendo un rapido passo avanti in un altro pezzo della nostra storia 1864 durante la la guerra civile negli Stati Uniti il Hunley è il primo sottomarino che riesce a far sprofondare una nave nemica una nave il sottomarino è della confederazione e abbatte la nave Hustonic la USS Hustonic e purtroppo essendo così piccolo e così vicino probabilmente alla nave il Hunley viene sprofondato insieme alla nave quindi è vero che il primo sub a far sprofondare una nave ma poi sprofonda anche lui e quindi povero però è stata un'invenzione importante perché è la prima volta che poi dopo viene fuori questa voce e cerca di cioè inizia a convincere anche diversi militari che forse davvero questa storia dei sottomarini può essere utile e non soltanto una curiosità nel 1866 dall'altra parte del mondo Julius Crowell e Ariel Patterson si incontrano dalla parte dell'Atlantico Crowell è un ingegnere tedesco e ha quest'idea di un nuovo sottomarino che può essere un po' più utilizzabile rispetto ai progetti passati rimane molto affascinato dal Hunley ma secondo lui non è granché e utilizza alcuni dei concept anche del Nautilus vanno in cerca di fondi a New York e trovano qualcuno che finanzia il progetto e costruiscono a Brooklyn nel porto un sottomarino chiamato Submarine Explorer grande 12 metri per 3,3 metri quindi già molto più grande di quanto era Nautilus può andare a 4 nodi che sono circa 7,4 km all'ora quindi non particolarmente impressionate ma è comunque rapido rispetto ad altri sottomarini dell'epoca e un'altra cosa impressionante che ha è una camera sopra piena di aria pressurizzata che poteva essere rilasciata e l'aria era pressurizzata a 1400 kPa poteva essere rilasciata sotto l'acqua direttamente all'interno del compartimento in questo modo la pressione dell'aria dentro il sottomarino mentre erano sott'acqua era uguale a quello dell'acqua d'intorno e questo portava a una sorpresa tu potevi aprire una porta sotto i tuoi piedi e uscire fuori nell'acqua questo era importante perché appunto l'acqua poteva aprire la porta e non uscire fuori per piazzare le tue bombe esplosive eccetera o fare le verifiche per vedere se il sottomarino stava bene senza però avere una camera apposta dove uscire entrare come per esempio devono fare invece gli astronauti che non possono semplicemente aprire un finestrino fuori l'altro problema il risvolto della medaglia per questo è che nessuno all'epoca aveva idea di quali sarebbero stati i danni per l'equipaggio e furono molti per la decompressione l'ossigeno il sangue infatti molti stavano malissimo appena uscivano fuori dall'acqua usando questo sottomarino però la soluzione da parte ingegneri fu semplicemente dire vabbè che ci vuole ricambiamo equipaggio quindi se stanno male ne mettiamo un altro quindi non particolarmente attenti però comunque l'explorer fu uno dei più importanti contributi nella storia dei sottomarini almeno in quest'epoca fu il primo che era pienamente controllato dall'equipaggio non dipendeva per esempio da correnti o altro molto più dei altri prima di lui la vera rivoluzione però nei sottomarini in generale inizia con l'elettricità i motori diesel tutte le invenzioni alla fine dell'ottocento queste invenzioni gettono un po' le basi per quella che sarà la rivoluzione in generale in tutti i campi non solo militari ma di tutta la vita cioè mentre sulla terraferma i treni erano la grande novità per l'acqua i sottomarini erano l'equivalente permettevano di fare cose che le navi non avrebbero mai fatto anche se oddio devo dire che più che l'equivalente dei sottomarini sono probabilmente più simili ai dirigibili che nascono in quest'epoca i primi progetti dopo le mongolfiere e anche le mongolfiere tra l'altro ci sarà una puntata tutta dedicata alle prime mongolfiere eccetera perché hanno uno sviluppo simile forse più simile alle navi a vapore con i grossi motori che dovevano essere piazzati sulle navi e c'era sempre la battaglia tra quanto grande poteva essere il motore quindi quanta energia poteva darti e quanto effettivamente poi pesava e quindi ti rallentava nel caso dei sottomarini che dovevano essere molto leggeri questo pesava ancora di più però per esempio nel 1876 un insegnante di una scuola in Irlanda chiamato John Philip Holland mentre era a correggere i compiti e pensava tra sé e sé leggendo le varie novità dalle invenzioni di tutto il mondo inizia a pensare a un prototipo migliore per un sottomarino cioè lui mentre sta correggendo i compiti ha delle intuizioni che continuano a rimanere in mente e ritornano e ritornano ed è convinto che ha trovato una soluzione ai vari problemi che avevano i sottomarini dell'epoca allora inizia a progettare i suoi pari progetti e inizia a spedirli a ingegneri porti eccetera in giro per il mondo e quelli che gli rispondono per primi sono gli americani che sono molto affascinati dalle sue idee gli propongono di venire nei Stati Uniti e lasciare la sua cattedra e una volta arrivato negli Stati Uniti inizia a progettare i sottomarini fa una serie di sottomarini chiamati con il suo cognome Holland e al sesto modello è così ottimizzato ormai che viene proprio preso dalla marina militare e l'11 aprile del 1900 Holland 6 diventa il primo sottomarino ufficiale della marina militare americana e il primo sottomarino usato dalla marina militare di qualsiasi nazione abbiamo fatto un grande salto in avanti nel 1900 rispetto a pensare che è solo un giocattolo ma ancora molte marine in giro per il modo sono tutt'altro che convinti anche se una volta che i Stati Uniti acquisiscono questa nuova tecnologia tutti gli altri si sentono in dovere di averle anche loro se non fosse altro che per potersi parare o comunque vantare di avere comunque anche loro questa nuova tecnologia e quindi in tutte le nazioni in giro vedete comparire queste nuove cose e la Francia per esempio costruisce un nuovo sottomarino chiamato Narvalo che usa diesel e elettricità come il Holland tra l'altro sono molto simili e i Holland erano particolari perché avevano la capacità di viaggiare con il motore a combustione interna mentre erano fuori dall'acqua quindi erano sulla superficie e poi una volta che erano sotto usavano una batteria elettrica e potevano viaggiare molto più velocemente rispetto ai esperimenti passati la Francia quando fa il Narvalo le fa in serie perché pensa che comunque una delle cose che potrebbe avere impatto sarà i numeri allora ne costruisce 76 di Narvali motori diesel motori elettrici la Germania inizia a lavorare sui suoi progetti ed il Regno Unito e beh il Regno Unito ne costruisce 5 e anche su quei 5 non è molto convinto li prende praticamente dai americani questa cosa si ripeterà tra l'altro anche in ambito spaziale perché per esempio in questo caso avevano Holland in casa ma invece di assumerlo loro nonostante Holland aversi scritto anche agli inglesi poi loro lo snobano e poi quando ha successo nei Stati Uniti gli inglesi comprano poi la tecnologia dai americani comprano dei sottomarini Holland da loro e dicevo che sarebbe successa la stessa cosa nello spazio perché alla fine negli anni 60 anche gli inglesi il Regno Unito in generale ha iniziato a lavorare per costruirsi un proprio razzo e dopo aver investito per vari anni fondi e soldi eccetera e talenti per costruire questi razzi lanciano effettivamente un razzo con un satellite fino allo spazio tutto funziona bene e poi tagliano i fondi che voi direte perché? cioè che senso ha? una bella domanda l'Inghilterra è l'unica nazione che è riuscita ad arrivare il Regno Unito diciamo che è riuscita ad arrivare con le proprie forze nello spazio e poi ha abbandonato completamente questa capacità per comprare invece a prezzo maggiore tra l'altro la capacità di lancio da altri paesi dai Stati Uniti in particolare semplicemente non veniva visto come una cosa così importante strategica da avere un intero settore dedicato quindi mi immagino che le discussioni vertevano intorno all'utilità dei razzi con persone politiche che dicevano se vabbè questa moda dei razzi ma vedrai che passerà figurati se nei anni 2000 non ce n'hanno ancora razzi e poi non so che facevano guardavano bombe atomiche perché all'epoca il divertimento era far esplodere qualsiasi cosa però tornando alla nostra storia all'inizio del 900 nel 1904 1905 inizia a combattersi la guerra tra russi e giapponesi e anche qui viene impegnato per la prima volta in una guerra una serie di sottomarini russi tra l'altro che sia vengono impiegati per proteggere i porti ma anche per cercare di attaccare altre navi in porti occupati e questo dà un'idea di come sarà possibile impiegarli in futuro anche se ancora i sottomarini sono molto molto primordiali già si vedono alcuni dei spunti interessanti su quanto potrebbero cambiare il modo di fare guerra ma anche esplorazioni in realtà perché già ora per esempio i sottomarini permettevano di esplorare parti dei mari che non erano mai state viste quindi gli scienziati sono molto entusiasti e un altro un altro intreccio un'altra storia un podcast sarà dedicato per esempio agli esploratori marini con umani quindi tutte le storie con come si chiamano gli omini michelin dell'acqua con le tute subacqueo mi verrà vabbè insomma non badate a me e alla mia memoria che se ne va piano piano tornando però alla nostra storia la Germania poi dopo è quella che investe di più almeno in Europa per la sua flotta inizia a costruire quelle che chiama undersea boat in inglese sono semplicemente barche sottacque e vengono abbreviate all'estero come U-boat e vengono ancora conosciute come U-boat ma anche se per i tedeschi era il nome di tutti i sottomarini venivano chiamati tutti i sottomarini così per tutti gli altri U-boat sono quelli classici usati durante la prima e seconda guerra mondiale dalla Germania quindi c'è questo però i sottomarini creati dalla Germania erano estremamente efficaci rispetto agli altri potevano percorrere molte più distanze e usavano torpedo che erano nuove tecnologie balistiche che permettevano di attaccare le navi da lontano senza doversi avvicinare e rischiare di fare la fine della nave di cui vi dicevo a Hanley che sprofondò insieme a quella che aveva battuto e durante l'inizio della prima guerra mondiale si vede davvero l'impatto di tutto questo perché l'ingresso nella guerra da parte della Germania fu spettacolare durante la prima guerra mondiale in termini di impatto perché iniziarono subito ad attaccare le navi commerciali e quelli che facevano riferimenti di materie prime per le fabbriche quindi nonostante gli inglesi erano ancora increduli e non pensavano che i sottomarini sarebbero serviti a qualcosa il 22 settembre del 1914 poco dopo l'ingresso nella guerra un sottomarino di nome SMU9 fa sprofondare tre diverse navi contorpido da lontano senza neanche vedersi quindi è completamente invisibile le navi sprofondavano una dopo l'altra portando a fondo 1500 soldati in un'ora in una sola ora un solo sottomarino aveva abbattuto tre diverse navi da guerra questa è come una specie di sveglia all'improvviso doccia fredda per il Regno Unito anche se la marina militare continua a dire che in realtà non è un problema che non succederà che continua a dire che probabilmente erano mine che dubita che siano davvero imprese di un sottomarino ma poi lo stesso sottomarino SMU9 finisce per abbattere più di una dozzina di altre navi allora bisognava correre il pari cercare di sistemare questo problema nel frattempo i sottomarini specialmente i U-Bot erano stati migliorati molto sia per la fluid il modo in cui potevano navigare più fluido ma anche la silenziosità e un'altra cosa molto importante che avevano il periscopio questo permetteva di puntarsi verso la nave in amica da abbattere poi dopo scendere sotto l'acqua diventare invisibili e poi colpire la nave col torpedo sempre se riuscivano a beccarla perché poi dopo io ve ho descritto le imprese di SMU9 come straordinari e lo furono in termini di guerra e impatto però comunque non è che i torpedo fossero particolarmente precisi quindi il più delle volte non riuscivano a trovare il loro target anche se dopo la guerra insomma ci furono rapidi sviluppi verso nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale la Gran Bretagna si trova quindi con i pantaloni intorno alle ginocchia cerca di trovare un riparo il problema è che nessuno ha idea di come fare trovare i sottomarini il momento in cui si rendono conto di quanto è la problematica non è quando abbattono navi da guerra ma è quando iniziano ad abbattere navi commerciali navi che arrivano con rifornimenti per la popolazione o con materie prime per le fabbriche e in poco tempo le fabbriche si trovano in ginocchio allora iniziano a proporre soluzioni e la prima soluzione è scappare scappa 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 se vedi un sottomarino scappa se non lo vedi stai molto attento continua a guardare verso l'acqua per vedere se vedi un periscopio se vedi un periscopio ed è vicino a te colpiscilo direttamente o comunque vai con la tua nave direttamente verso il periscopio verso il sottomarino ora lo so che direte ehi aspetta ma cioè sarebbe un po' come dire se vedi qualcuno col fucile corri verso di lui o scappa mentre è puntato contro di te il fucile quale senso ha? beh come dicevo in realtà l'idea generale era che forse i torpedo non sono così precisi quindi se sei fortunato scappi magari non ti beccheranno e poi se il periscopio è su ti muovi molto velocemente più di quanto può fare il sottomarino forse non fanno in tempo a sparare magari si stavano solo orientando quindi può essere che fai in tempo a danneggiarlo tu prima e appunto fermare la la sua avanzata ora questa è una soluzione estremamente temporanea per cui in realtà non basterebbe di suo infatti molte navi continuavano a sprofondare ma c'è un'altra soluzione che è meravigliosa che è una delle cose che mi ha convinto a fare la puntata sui sottomarini quando l'ho trovata ed è una proposta fatta dalla British Board of Invention and Research che suggerisce di usare per prima cosa gabbiani e gabbiani non sono la soluzione più intuitiva se ci pensate perché i gabbiani e cosa dovrebbero fare contro i sottomarini però ecco qual era il ragionamento ora prendete questi piccioni di mare e portateli a mangiare su cose che somigliano a periscopi quindi cari marinai andate nel mare tirate fuori delle cose che somigliano a periscopi riempitele di cibo e lasciateli lì così i piccioni marini i gabbiani si abitueranno li chiamo piccioni marini perché spesso non mi viene in mente gabbiano come parola o tutte le volte che lo dico mi immagino delle piccole gabbie volanti non ha senso però quando verranno a mangiare sui periscopi si abitueranno alla forma e tutte le volte che vedranno dei periscopi nell'acqua arriveranno in gruppo per sederci sopra per cercare di becchettarlo e in questo modo magari potremo non solo vedere dove sono più facilmente ma riusciremo anche a sciupare e oscurare la vista ai marinai quindi i nemici che si troveranno a guardare tramite il periscopio vedranno soltanto cacche di gabbiani e ali l'altra idea nel caso in cui non funziona questa dei gabbiani e non funzionò per quanto ne sappiamo era riempire tutto il mare di vernice che mi sembra una brillante idea cosa potrebbe mai andare storto riempiamo il mare di vernice il ragionamento era che in questo modo la vernice avrebbe oscurato la vista ai periscopi e certo avrebbe funzionato se non fosse che tutto quanto nel mare sarebbe morto ma per il resto sì fantastica idea ora l'altra soluzione e giuro che questa cosa è stata davvero provata è stato a contattare Joseph Woodward che lavorava con la Royal Society e lui si occupava di allenamento di preparazione studio eccetera di leoni marini e dissero caro Joseph ma non è che potresti abituare i leoni marini ad andare verso gli periscopi e trovarli e poi tornare indietro verso i marinai e indicare dove sono questi periscopi o direttamente anche i sottomarini perché sai i leoni marini magari possono essere sott'acqua sono dei sottomarini naturali e possono tornare a casa insomma dai marinai e dire dove sono i sottomarini e niente mi sono immaginato una puntata stile lassi ma con leoni marini che tornano indietro e i marinai la seguono per cercare di capire dove è il sottomarino quanto è bello pensare che là fuori in un momento della nostra storia davvero dei militari prendevano sul serio l'idea di usare leoni marini per impiegarli contro i sottomarini tedeschi ah la storia ma la soluzione più pratica alla fine fu usare una cosa ben diversa e anche in questo caso non ci crederete ma tutte le soluzioni proposte della British Board of Invention and Research non funzionarono né i gabbiani né la vernice che fu scartata e nemmeno i leoni marini anche se sappiamo che furono addestrati un pochino la soluzione più efficace fu prendere dei grandi grossi e baffuti fabri scozzesi con delle martelli grossi e delle buste ora vi lascio un secondo per immaginare a cosa potevano servire tutte queste cose insieme cosa se ne faceva la marina militare di dei fabri grandi e grossi con dei lunghi martelli e delle buste beh l'idea era quella di assistere le grandi navi commerciali che passavano e arrivavano verso i porti con delle piccole navi esploratrici tutto intorno che dovevano girare intorno alla nave e dare la caccia appunto a periscopi nel momento in cui vedevano un periscopio dovevano avvicinarsi e senza farsi vedere immediatamente buttare una busta sopra al periscopio e poi prenderlo fortemente a martellate quindi ecco grandi fabri scozzesi che prendevano a martellate i periscopi cioè è vero che era una tecnologia obsoleta quella dei martelli da usare nella guerra però in questo caso forse era efficace e sappiamo almeno con certezza di un particolare capo di marina che fu un ammiraglio che fu sedotto da quest'idea e ne prese alcuni quindi è stato un pochino messo in pratica anche se purtroppo si è perso nella storia quanto questo poteva essere efficace in termini di di abbattimento di periscopi però mi piace l'idea che là fuori in qualche momento storico appunto oltre al fatto di allenare leoni marini potevi lavorare nella guerra mondiale come fabbro che prendeva martellate i sottomarini quanto è bello ok questa storia poi dopo finisce un po' con l'invenzione dei sonar e in questo modo poi inizia la caccia ai sottomarini con altre tecnologie inizia la storia dei sottomarini sempre più silenziosi quella famosa che ci porterà per esempio alla storia che conosciamo come il film di ottobre rosso ma la cosa di cui voglio parlarvi io in realtà e molto prima di questo le storie riguardo i sottomarini moderni nel novecento sono incredibilmente tante sono così tante che è stato difficile sceglierne qualcuna però ho scelto una tra le meno conosciute e una che ha a che fare un pochino anche con l'astronomia in realtà e una che ci collega anche alla storia di cui abbiamo parlato prima e ha inizio il 17 giugno scusate del 1924 alla Philadelphia Navy Yard è un cimitero di vecchie navi dove sottomarine navi venivano mandate a morire e arriva questo ferro vecchio da buttare chiamato O-12 era di una serie di sottomarini chiamati O e furono usati per un breve periodo durante il periodo di pace dopo la prima guerra mondiale ma furono velocemente sorpassati da nuove tecnologie e visto che erano un po' scarsi furono poi dopo buttati via appena non erano più utilizzati e la vita di O-12 era stata praticamente tutta nel canale del Panama perché aveva passeggiato avanti e indietro lungo il canale durante la costruzione durante le varie fasi di lavorazioni ma quello che non sapeva O-12 è che l'aspettava un'incredibile avventura davanti a sé e non sarebbe stato scartato e buttato via come ferro vecchio e qui nella nostra storia che fa ingresso Hubert Wilkins ora Wilkins era un avviatore giornalista fotografo esploratore da bambino aveva fatto cacciatore di canguri era australiano al di là della parte di cacciatore di canguri però lui era incredibilmente avventuroso è una delle menti più scientifiche nel mondo dell'esplorazione dell'epoca perché non era soltanto cercare di fare esplorazione per farla ma tutte le volte cercò di portare con sé scienziati o comunque collegare le sue imprese a qualcosa da portare a casa che avesse un avesse portato a un progresso dell'umanità della nostra conoscenza e per questo diventò piuttosto famoso in realtà poi la sua carriera iniziò in modo un po' più strano perché fu assunto come fotografo dall'esercito ottomano durante la prima guerra nei Balcani e una volta arrivato in Europa conobbe altri esploratori e nel 1913 partì per la prima spedizione artica canadese con una nave molto figa molto grande che però rimase bloccata nel ghiaccio molti purtroppo morirono e come succedeva spesso purtroppo con le navi che cercavano di arrivare nelle zone artiche durante questo periodo si mise in salvo ma rimase incredibilmente affascinato e colpito dall'artico e da quanto era duro esplorarlo e quanto nessuno era riuscito ancora per esempio a vedere com'era il polo nord o come sarebbero state le regioni mai esplorate del polo terrestre anche in antartide succedeva la stessa cosa quindi in questa epoca l'umanità vive questa corsa alle ultime terre non esplorate quindi da una parte ci sono l'artico poi l'antartico poi l'everest e lui è in prima fila durante queste esplorazioni e mentre rimane bloccato all'interno nel ghiaccio nell'artico una delle cose che gli viene in mente è che se solo avesse una di queste strane invenzioni chiamate sottomarini potrebbe in realtà passare sotto i ghiacci e scendere velocemente fino al al mare quando ritorna dopo la sua spedizione nell'artico è uno dei pochi che sopravvive fu nominato anche cavaliere da parte di re Giorgio V in Inghilterra tra l'altro questo non solo per questo ma anche per aver fatto il primo volo di 24 ore lui come avviatore dall'Alaska fino alle Svalbard nelle regioni più fredde del pianeta e non è facile perché gli aerei dell'epoca erano molto suscettibili a queste cose di sbalzi di temperatura che potevano contrare i materiali in modo diverso e i motori potevano smettere di funzionare per cui un volo che partiva dall'Alaska arrivava alle Svalbard era abbastanza impressionante questo attira l'attenzione anche di molti altri che lavorano in giornali e mondo dello spettacolo perché cercano di prendere ispirazione da lui e lui diventa famoso come l'esploratore più giovane figo nel mondo in quel momento un'altra cosa che succede è che nel 1929 viene chiamato da Randolph Hearst che rimane colpito dalle sue imprese che è il capo di un grande giornale una serie di giornali degli Stati Uniti e lo invita per una nuova impresa cioè un volo intorno al mondo su una nuova invenzione strana chiamato Zeppelin un Graf Zeppelin sono i grandi storici dirigibili che vi potete immaginare e durante il volo mentre Wilkins tra l'altro senza sapere lui era stato il primo australiano a viaggiare mai a fare il giro in volo del mondo e durante il suo lungo tragitto arriva fino alle zone polari e quando è lì inizia a parlare con Hearst e gli propone di fare un'impresa ancora più spettacolare e dice senti Hearst ma se un dirigibile arriva al polo nord e io nel frattempo con un sottomarino arrivo da sotto al polo nord e il sottomarino esce da sotto i ghiacci e noi usciamo quindi penetrando da sotto i ghiacci al polo nord e incontriamo il dirigibile che te ne pare? Hearst rimane completamente estasiato da questa cosa e gli piace così tanto che gli dice senti appena torniamo a casa ti do tutti i soldi che ti servono davvero fai come se li avessi già e gli dai in mano poi 250.000 dollari che sono l'equivalente di oggi di 13 milioni di dollari e con questi soldi lui rimane colpito prende subito il sottomarino va infatti a cercare uno che costa poco non è facile trovarne uno perché quelli che sono già stati buttati via in realtà sono molto sciupati ma arriva giusto in tempo per prendere O12 che come vi dicevo il 17 giugno del 24 era stato parcheggiato lì in attesa di essere distrutto così O12 viene ripreso e iniziano i lavori per migliorarlo per quest'impresa per sbucare fuori dal ghiaccio al polo nord quando inizia a sentirsi circolare la voce riguardo a quest'impresa inizia un hype assurdo riguardo a quello che Wilkins cercherà di fare e persino Walt Disney rimane molto colpito e gli manda un disegno fatto a mano da lui di Mickey Mouse a guida di un sottomarino che se non l'avete mai visto è meraviglioso e vi consiglio tra l'altro lasciate vedere che state ancora ascoltando mettete in pausa andate a cercare Walt Disney Wilkins submarine o sottomarino e vedete dovrebbe venirvi fuori tra le prime cose nei motori di ricerca ora tutto questo entusiasmo poi viene un po' stemperato quando inizia a fare le prime prove tra l'altro il 24 marzo del 1931 c'è la cerimonia di battesimo dello 12 con tutte le modifiche Wilkins aveva messo durante un anno intero di lavori una trivella grande in cima per poter uscire fuori dal ghiaccio aveva fatto un sacco di modifiche aveva migliorato molto con dei pezzi di legno tutto intorno la struttura del sottomarino in modo da potersi parare dai colpi di ghiaccio e lo dedica dedica alla nave a Jules Verne e a Nautilus quindi la nave viene chiamata Nautilus che a sua volta era stato chiamata Nautilus da Jules Verne per quello primo e al 20.000 leghe sotto il mare è uno dei momenti in cui la fantascienza stessa inspira la scienza e l'esplorazione perché poi dopo Wilkins racconta una delle cose che l'ha spinto verso l'amore per il sottomarino è stato proprio il racconto di Jules Verne tra l'altro lì arriva anche Jean Jules Verne alla presentazione quando viene fatta la cerimonia per il battesimo che è il pronipote proprio di Jules Verne quindi era anche lui presente la targa sul sottomarino è Mobili sin Mobili che è uno dei moti storici del capitano Nemo e con queste tutte le modifiche sono pronti a partire ora vi dicevo che i problemi l'entusiasmo si stempera perché durante il primo passaggio primo test vengono fuori tutte le crepe nel design e c'è da migliorare di tutto i motori sono molto vecchi l'O12 in realtà come dicevo non è granché come il sottomarino per cui cercare di tirarne fuori qualcosa di eccezionale è altro che Pimp My Ride questa era davvero un'impresa titanica e lo so che non dovrei dire titanico in questo caso perché come aggettivo non è granché visto che stiamo parlando di mari e navi ed è sprofondato ma era un'impresa davvero incredibile quella di tirare fuori da un ferro vecchio un esploratore che era in grado di passare sotto l'oceano artico sotto il ghiaccio i giornali poi dopo continuano a chiamarlo una tomba in mare e 20 persone che partono come equipaggio sono viste come o degli eroi che andranno in una delle imprese più hardware oppure appunto dei pazzi e questo momento della storia dell'esplorazione è piena di cose simili anche per quanto riguardava le spedizioni artiche in barca o anche per le traversate dell'antartide succedeva la stessa cosa e viviamo tra la fine dell'ottocento e fino alle prime missioni spaziali in quest'epoca di spericolati avventurieri che cercano di conquistare le vette del mondo i posti più lontani e moltissimi muoiono ci sono un sacco di imprese che non funzionano questo storico momento non è finito a un certo punto perché le missioni che ora di cui parliamo oggi non ne riuscirebbero mai a passare cioè nessuno nessun ente o sponsor farebbe mai andare nell'oceano in una situazione del genere un sottomarino di questo tipo così scarso quindi sono cambiati sicuramente i tempi ci sono altri alcuni che dicono che siamo diventati forse troppo cauti nel frattempo nel senso siamo ora abbiamo sempre paura di cosa fare di non rischiare mentre dovremmo essere un po' più intrepidi un po' più coraggiosi però sicuramente la soluzione migliore è una via di mezzo perché nessuno vuole comunque essere spericolato tanto per il gusto di esserlo nonostante tutto comunque dopo tutte le verifiche nonostante la prima volta che hanno fatto l'uscita al sub ha preso acqua e hanno dovuto riportarlo con un sacco di danni a porto alla fine riescono finalmente a partire partono da New York City e la prossima destinazione era Pleymouth in Inghilterra e da lì dovevano arrivare a Bergen in Norvegia e poi via verso le Svalbard e sotto il ghiaccio per uscire poi sopra direttamente al Polo Nord questo mese perso per fare le riparazioni in realtà fu critico perché la grande paura era l'arrivo dell'autunno man mano che il tempo peggiorava anche l'oceano artico diventava sempre più difficile da gestire in generale poi dopo c'era ancora da fare tutta la traversata dell'Atlantico e quindi il timore era quello di prendere brutto tempo e di trovare troppo ghiaccio e di passare troppo tempo sotto l'oceano artico comunque nonostante i timori e sperando che tutto andasse verso nel modo migliore partono da New York City e dopo quattro settimane di viaggio incontrano un tempo terribile ci sono tempeste ci sono mare molto mosso e il sottomarino viene girato fino a 100 gradi da un lato e dall'altro ovviamente molto mal di mare i marinai non stanno molto bene di salute finiscono poi dopo per vomitare metà del tempo e il resto del tempo cercare di capire se il sottomarino ce la potrà fare diventano subito molto scetti ci riguarda tutta la missione e poi appena le acque si calmano capiscono che i motori sono andati escono fuori cercano di riparare i motori ma non ci sono pezzi di ricambio così decidono di mandare un SOS per cercare di farsi salvare con un po' di resistenza aveva paura di diciamo dare l'idea che è stato tutto un falimento e non funzionerà ma alla fine lo rassicurano anche se un bel po' dell'equipaggio vorrebbe cambiare aria e spera che appena arrivate Plymouth potranno andarsene in realtà da questa trappola di morte ma comunque una volta che trovano una nave che li porta con loro la USS Wyoming arrivano sani e salvi a Plymouth lì passano un altro mese per cercare di finire le riparazioni cambiano i motori migliorano un po' la struttura del sottomarino e c'è un ricambio anche dell'equipaggio e si aggiungono in realtà alcuni molto importanti per esempio si aggiunge Harald Sverdrup Sverdrup è uno dei più importanti e famosi oceanografi dell'epoca e lui è uno scienziato tra i più brillanti quindi porta con sé un sacco di esperimenti per la gioia di Wilkins che come dicevo non ci teneva molto ad avere scienziati e fare gli esperimenti a bordo ma tutti gli strumenti che aveva portato lui erano limitate alle conoscenze che aveva lui di scienza mentre avere un oceanografo a bordo aumentò molto il prestigio della missione Randolph Hearst manda un telegramma per dire al buon Wilkins di non farlo di non partire gli dice dai tenta l'anno prossimo lascia perdere non andare sotto l'oceano artico ma Wilkins è convinto che ce la può fare fiducioso nelle riparazioni che hanno fatto a Plymouth Hill del suo sottomarino e così con un nuovo equipaggio è pronto a partire e parte da Plymouth e va verso Bergen in Norvegia e per fortuna almeno in questo caso tutto funziona bene una volta arrivati lì partono per Spitzbergen e da lì sotto la colotta polare ora a questo punto quando arrivano nell'oceano artico notano quanto davvero davvero avrebbe fatto freddo perché certo si immaginavano che le temperature sarebbero scese ma nessuno pensava a un calo così drammatico le temperature velocemente scendono sotto il zero i marinai devono stare continuamente in movimento c'è un senso di claustrofobia il metallo della nave inizia a contrarsi facendo un sacco di suoni strani non riescono a dormire paranoia hanno paura perché le temperature sono così basse che molti di loro iniziano a mostrare segni di ipotermia il Nautilus viene chiamato a questo punto un sarcofago gelato il morale è a terra e unica consolazione che riesce a salvare un po' l'equipaggio da questa situazione è l'esplorazione scientifica infatti si mettono a cercare di capire com'è questa nuova zona dell'artico che nessuno aveva mai esplorato una delle prime cose che fanno è prendere campioni dell'acqua guardano quali tipi di animali ci sono li catalogano iniziano a studiare vari tipi di meduse infatti rimangono molto stupiti dal vedere meduse nell'oceano artico che se ne stanno lì tranquilli in una temperatura così gelida mentre loro non riuscivano a stare neanche con tutte le coperte addosso maledette meduse in questo caso però fanno anche delle scoperte scientifiche molto importanti perché quando analizzano per esempio i campioni che prendono dell'acqua scoprono che ha una composizione salina molto simile a quella della corrente dell'Atlantico in realtà scoprono che in questo modo le acque dell'Atlantico arrivavano molto più in alto rispetto a quanto pensavano ed è questa acqua che passava da sotto che riscaldava poi dopo le nazioni scandinave che avevano un clima molto più umido rispetto a quello che dovrebbero nel circolo polare o così vicino al circolo polare quindi questa fu la prima volta che furono scoperte queste tracce dei correnti oceaniche e fu importante per la climatologia in generale un'altra scoperta molto importante più astronomica in questo senso riguarda un pendolo che fu portato da Sverdrup a bordo un pendolo molto speciale che misurava la gravità della terra ora l'ipotesi generale era che la gravità della terra non fosse uniforme e distribuita uguale da tutte le parti perché la forma della terra non era uguale uniforme e quindi l'idea era che più ti avvicini al centro della terra più dovresti vedere una gravità maggiore per cui ai poli rispetto all'equatore più bombato dovresti vedere una differenza nella gravità e lui al di là di queste ipotesi che alcuni credevano alcuni no lui è il primo a confermare che davvero succede infatti quando arriva lì fa le misurazioni tutta per tutta la traversata verso le regioni polari e nota appunto il cambiamento e questa importante scoperta aveva fu la prima misurazione diciamo della non uniformità del campo gravitazionale del nostro pianeta ed è molto importante per cercare di studiare l'interno del pianeta e come funzionano i pianeti su grande scala in generale quindi tuttora le conseguenze di quelle scoperte iniziali ce le portiamo dietro sia in astronomia per quanto riguarda la gravità sia per quanto riguarda appunto l'oceanografia e il clima scoperta molto importante particolarmente oggi che abbiamo a che fare con il cambiamento climatico ora una volta che i nostri intrepidi scienziati e esploratori arrivano oltre l'ottantunesimo oltanto duesimo grado sono pronti a entrare sotto il ghiaccio a questo punto diventa ancora più terrificante da sopra non arriva più luce iniziano a essere colpiti da ghiaccio quindi iniziano a sentire grattare pezzi di ghiaccio contro il sottomarino voi immaginatevi cercate di medesimarvi uno di loro che sono ormai da settimane e settimane sotto l'acqua tutti quanti in questo piccolo spazio dentro il sottomarino che dopo tutte queste difficoltà è un miracolo che si è ancora in piedi che si è rotto così tante volte che hanno dovuto riparare a mano che ormai conoscevano per ogni singola vita e sapevano ogni cosa quella che potrebbe andare storto per cui continuavano a parlare tra di loro di tutto quello che potrebbe succedere tipo metti che si rompe un motore metti che si rompe questo e se non abbiamo più motori ausiliari e se non abbiamo più carburante e che succede se per esempio quei vecchi filtri che servono per filtrare l'anidere carbonica nell'aria smettono di funzionare alla fine quei filtri erano molto molto vecchi quindi non è detto che fossero così efficaci come te ne accorgi? come sai che l'aria è ancora respirabile? non ci sono strumenti a riguardo e avevano degli indizi cercavano di capire da altre cose se tutto andava bene ma era terrificante come 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 situazione anche perché continuava a sentire appunto questi grati continui contro la struttura del sottomarino e le temperature che scendevano fino a qualcosa di come meno 10 alla fine dopo queste condizioni terribili quando ancora mancano in realtà diverse centinaia di chilometri dal polo nord ma comunque sono abbondantemente sotto i ghiacci riescono a convincere Wilkins a uscire fuori dai ghiacci anche solo per testare la trivella e vedere se tutto va bene una volta usciti fuori dal ghiaccio fanno una foto commemorativa quindi escono tutti quanti fuori fanno la foto con il logo e tutto il resto e questo per dimostrare che davvero l'impresa è riuscita montano un'antenna e iniziano a comunicare con il mondo esterno riescono a trovare un contatto con New York City fanno sapere a Hearst che era ancora lo sponsor di tutta questa impresa come sta andando e quali sono le difficoltà e Hearst è così preoccupato per la situazione che gli dice che non ci sarà il Zeppelin a incontrarli e che non ci sarà neanche più alcun finanziamento da questo punto in avanti e quindi Wilkins si trova non solo con il rischio per la missione ma anche nella situazione in cui probabilmente se non smette finirà in bancarotta perché non avrà più fondi non ha modo di mandare avanti la spedizione o fare altre riparazioni e anche perché non c'è modo di fare riparazioni così lontano da qualsiasi porto così un po' male in cuore ma si fa convincere ed anche il suo equipaggio molto felice di vederlo titubare che forse è meglio tornare in Norvegia alla fine comunque tornano tutti quanti in Norvegia sani e salvi anche se incontrano un po' di tempeste per la strada ma niente in confronto al tempo passato sotto l'artico ovviamente poi dopo nei ultimi giorni di tragitto capitano ogni sorta di problemi come spesso succede tutti i marinai pensano oh no 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 col cavolo che muoio qui dopo aver passato tutte le cose che ci sono successe nell'atlantico e poi sotto il ghiaccio però tornano a casa molto soddisfatti perché al di là del rischio e della paura e claustrofobia e tutto quello che hanno passato loro sono diventati i primi esseri umani a navigare sotto il ghiaccio dell'artico e di questa cosa vanno molto molto orgogliosi tanto più che si sono affezionati a questo ferrovecchio che si sono portati dietro che è riuscito a resistere in queste condizioni una volta che arriva ormai i motori sono completamente distrutti e non è più utilizzabile quindi comunicano con con la marina militare americana che era proprietaria di questo sottomarino quindi erano non potevano lasciarlo in giro ma dovevano far sapere a loro come stava e gli dicono la situazione del sottomarino loro rimangono più che altro molto impressionati che esiste ancora e ovviamente non lo vogliono indietro perché in queste condizioni non c'è nulla che possono fare con loro non sarebbe neanche sicuro per una traversata e quindi gli dicono di abbandonarlo sotto le acque lì e di farlo sprofondare il suo operatore radio del sottomarino che è quello che ha comunicato da sempre con il Nautilus o per il Nautilus è quello che manda l'ultimo messaggio ed è un messaggio abbastanza conosso e lo manda mentre il Nautilus è pronto a sprofondare per l'ultima volta prendendo acqua e gli manda il messaggio con scritto adio Nautilus con tutti i tuoi sconforti e tutti i tuoi difetti ci sarà sempre comunque un posto caldo nel mio cuore nel cuore del tuo operatore radio per il primo sottomarino a penetrare sotto i ghiacci dell'Artico e con questo messaggio il povero Nautilus no o dodici finisce sul fondale dell'oceano Wilkins torna indietro e diventa molto famoso per comunque essere riuscito in questa straordinaria impresa torna con un sacco di racconti e continuò a fare le spedizioni continuò ad andare nell'Artico e partì per un'altra spedizione poco dopo nell'Antartico e continuò a essere però affascinato dal mondo dei sottomarini anche se la sua impresa non finì come aveva sperato fast forward in qualche anno nel 1955 la marina americana usa il primo sottomarino nucleare per fare una traversata del del subacchio del mare e indovinate come lo chiama visto che sarà il primo che traverserà sotto il ghiaccio polare lo chiama Nautilus e mi piace molto questa cosa perché si lega così tante storie cioè è chiamato Nautilus perché è il primo sottomarino nucleare e lo chiamano come il primo sottomarino di Rouen quello più famoso ma anche quello di Jules Verne ma anche il primo Nautilus il primo sottomarino che aveva provato a fare la traversata dell'Artico e c'era quasi riuscito era comunque riuscito a passare sotto i ghiacci e in appunto 1958 parte l'operazione Sunshine con cui riescono a traversare il sottomarino nucleare sotto tutti i ghiacci ed escono dall'altra parte un'impresa incredibile perché questo permetteva per esempio dal Canada per arrivare direttamente in Asia passando sotto il ghiaccio dell'Artico senza i problemi di uscita fuori di rimanere incastrati nei ghiacci come succedeva prima nel 1958 tra l'altro Wilkins rimane molto affascinato da questo e da un altro sottomarino nucleare che stava per fare la sua partenza che era il sottomarino skate e ha 70 anni ormai quindi va lo stesso però a chiedere se poteva far parte di questa spedizione propone un sacco di esperimenti scientifici che gli piacerebbe fare a bordo di questa spedizione incluso alcuni per esempio pensavano a una comunicazione tra un satellite che il primo Sputnik fu lanciato l'anno prima nel 57 un sottomarino ed era molto avanti rispetto ai suoi tempi alla fine però muore a sorpresa a settembre del 58 quindi non ce la farà partire per nessuna spedizione le sue ceneri però vengono portate durante la spedizione artica dello skate quando il sottomarino arriva al polo nord escono fuori dall'acqua da sotto i ghiacci e spargono le sue ceneri lungo il polo nord quindi ora i resti di Wilkins si trovano lassù al polo nord anche se non ce l'ha fatta ad attraversarlo lui anche se non ce l'ha fatta ad arrivare al polo nord a me piace molto questa storia più che altro appunto per tutte le connessioni che ci sono tra un sottomarino e l'altro e come ci portiamo dietro le storie dei passaggi fatti da queste tecnologie e per ogni nuova generazione di sottomarini si vede come cambia il mondo per esempio nel frattempo da quando Wilkins aveva fatto la sua spedizione c'era stata la seconda guerra mondiale molto era cambiato nel frattempo il mondo era completamente diverso i sottomarini nucleari avevano aperto un nuovo modo di combattere non solo come sottomarini in grado di abbattere navi ma come sottomarini come posizioni di lancio di missili nucleari invisibili quindi mentre tu potevi sapere da dove sarebbero partiti i missili nucleari dalle basi che conoscevi i sottomarini erano tutta un'altra storia e questa è la nuova guerra che si sta combattendo in quel momento e l'ultima cosa di cui voglio raccontarvi così in maniera un po' più scherzosa anche se oddio vi ho raccontato anche di leoni marini e di gabbiani e fabri scozzesi però volevo raccontarvi dei progetti sovietici perché ovviamente sovietici per sottoterreni sottoterreni sono submarini sottomarini però pensati per passare sotto il terreno furono pensati un po' nella fantascienza in realtà diversi iniziarono a sperimentare su questa cosa dopo la seconda guerra mondiale ed erano come delle specie di talpe e l'idea era di usare queste talpe per invece di scavare tunnel proprio come sottomarino per poter andare sotto le posizioni nemiche quindi immaginatevi un sottoterreno che parte che non so da una città X per arrivare verso la città Y si piazza sotto la postazione militare e nel caso di guerra o qualsiasi altra cosa esce direttamente fuori con l'equipaggio oppure può essere pieno di esplosivi sappiamo che l'Unione Sovietica si inizia a lavorare su questo c'è anche un racconto di fantascienza tra l'altro dell'Unione Sovietica proprio su questo tema chiamato conquistatori del sottosuolo che vi consiglio tantissimo di Grigori Adamov non so se si trova in italiano e l'ho letto in inglese però da qualche parte là fuori nel web magari lo trovate e vengono fatti diversi esperimenti sui sottoterreni o subterreni come vengono chiamati un progetto in particolare quello che diventa più conosciuto è di Trebelev che però è quasi scomparso completamente dalle pagine della storia per cui qui inizia molto della fantastoria o criptostoria e non sappiamo quali sono le voci vere e quali sono semplicemente speculazioni e creepypasta quindi purtroppo non so dirvi se molte delle cose che si dicono sul Trebelev sono vere o sulla talpa di guerra che avevano costruito però sembra che ne avevano testato una nei Urali e non ha funzionato ed è esplosa e poi l'hanno lasciato perdere ma Khrushchev aveva ipotizzato a un certo punto la possibilità di utilizzarle durante la guerra con gli Stati Uniti riempiendoli di bombe piazzandoli sotto target sensibili e da lì è partita molta speculazione perché si parlava appunto di queste talpe portate da navi di nascosto nelle vicinanze delle coste e poi da lì avevano iniziato a scavare sotto la costa e sotto la crosta per arrivare per esempio che ne so sotto la Casa Bianca e quindi magari c'era un sottomare subterreno sottoterreno nucleare pieno di esplosivi sotto la Casa Bianca o lungo tutta la costa della California dove appunto ci sono altre storie di sottomarini piazzati lì sottomarini continuo a chiamarli sottomarini sottoterreni nucleari piazzati lì e molto 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 probabilmente queste cose sono tutte quante speculazioni però almeno volevo finire con questo perché è divertente immaginare un progetto di un sottoterreno però allo stesso tempo dà spunto a un sacco di racconti di fantascienza e di tutta una serie di idee più creative riguardo a come costruire un mondo con tecnologie strane quindi chissà magari davvero un giorno avremo sottoterreni di vari tipi che possono scavare non con trivele ma con il calore nucleare come si pensava in questi casi per Trevele ma anche laser o tecnologie futuristiche faranno riferimento a questi progetti dicendo come noi dei primi sottomarini come quello con cui abbiamo iniziato con Giacomo I e la sua strana invenzione di Drebbel che nessuno prendeva sul serio e poi dopo guardate dove siamo finiti siamo arrivati alla fine un'ora e sette minuti quasi un'ora e dieci che dire grazie di essere rimasti fino a questo punto se siete ancora lì è stato lungo però spero che vi siate divertiti nella seconda puntata non vi dico ancora di cosa parliamo ma sto già finendo tutto quanto quindi poi vedo se darvi dei teaser o magari se mi seguite però comunque online vedrete delle piccole delle storie specialmente su Instagram se mi seguite su Adrian Fartade periodicamente vi metterò delle storie e indizi per i prossimi per i prossimi podcast per quanto riguarda poi dopo voi che lo sentite grazie di cuore a tutti voi di Patreon perché senza di voi non sarebbe possibile questa questa questo podcast escono dopo il 4 anche in tutto il mondo là fuori liberamente lo trovate per esempio su YouTube quindi se state sentendo questo podcast e vi piace e lo state sentendo non su Patreon allora significa che ce ne sono almeno altri 4 da sentire quindi se vi è piaciuto ci sono già altri 4 pronti già caricate basta andare su Patreon e poi dopo partecipare alla community e potete sentire anche gli altri 4 se no come sempre ogni settimana ne arriverà un altro ogni settimana permettendo tutte le varie cose che succedono nel mondo asteroidi imprese salute eccetera eccetera ma cercherò di essere puntuali ci vediamo presto come sempre continuate ad essere meravigliosi e fatemi sapere poi cosa ne avete pensato cosa vi è piaciuto o se avete disegni e storie o come dicevo per me da bambino come riempireste voi queste storie quali sono le cose che vi rimangono come immagini di più di questo di questo mondo che vi ho raccontato un abbraccio ci vediamo presto eccoci arrivati alla fine spero che vi sia piaciuto e se ne volete altri arriveranno presto come vi dicevo usciranno su Patreon e trovate il link qui sotto in descrizione e dopo usciranno tutti quanti per tutti solo 4 settimane in ritardo per cui usciranno qui 4 puntate dopo e le ritrovate aggiornate alla penultima puntata direttamente su Patreon un abbraccio ancora ci vediamo presto e fatemi sapere sotto cosa ne pensate grazie a tutti